MedMob è una startup innovativa nata un anno fa a Cagliari, ci occupiamo di sviluppare tutta la parte mobile per i servizi della farmacia, in questo caso a Sinova 2015 stiamo presentando la nostra nuova app che è di servizio per la farmacia ma utile agli utenti finali, nel senso che il cliente finale può vedere tutte le informazioni sulla farmacia, effettuare il pick and pay del farmaco, visualizzare tutti i check up che è effettuato all'interno della farmacia e in più la farmacia invece può promuovere tutti i servizi della farmacia in maniera specifica nel senso che può mandare un messaggio, una promozione solo a chi desidera mandarlo faccio un esempio, alla persona di 30-35 anni, donna, che è nell'arco di 2 km dalla farmacia e che da 3 mesi non entra in farmacia per cui permette alla farmacia di effettuare in maniera intelligente la comunicazione di tutto ciò che effettua in farmacia al cliente finale di sapere tutte le informazioni della farmacia e di consultare direttamente sulla propria app il check up che ha effettuato la farmacia, può essere in contatto continuativo con la farmacia Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie!